Allora, vabbè, intanto vi faccio prima la pull qua, perché tanto qui abbiamo tutto, quindi sinceramente se mi esce qualcosa o meno, non me ne frega nulla non c'è problema vabbè, però diciamo che io non faccio le run classiche, cioè a me non mi piace fare run classiche io poi mi invento robe strane che mi fanno perdere praticamente tutta la serata quindi è per quello che non so se ci riuscirò a farla anche perché poi dipende i personaggi che usi, dipende quali vuoi usare, come li vuoi usare io poi faccio tutte le robe al volo, quindi non lo so, vediamo oh, ho visto un piccolo e vedi, l'hai fatta rushando con, sì, allora funziona rushare con seed drains e allora la posso fare così anche io, mi so perché sfruttare i chase oh, ld di rosa ld di chimari ld di rosa, ma che cazzo, oddio ma che, che, che cazzo di multi ho fatto c'è, ma, 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 siamo seri? ld di rosa ld di rosa Grazie a tutti.